Eccolo qua, che proviamo a fermare. Ti è posto a chiedere le prime emozioni da milanista? Sono forti, sono bello, sono felice, quindi speriamo di dare avanti di tutto questo entusiasmo nei prossimi giorni. Era davvero una favola, era davvero un sogno quella letterina a Santa Rita? Sì, era... Santa Lucia! È ancora un sogno, perché sono ancora... ho indossato una maglia del Milan per ora, però domani si realizzerà tutto questo. Santa Lucia mi correggono, quindi ho sbagliato io. Ti chiedo l'ultima cosa, l'emozione di stanotte in vista di domani? Ma... l'emozione è forte, però comunque dormirò e domani mi allenerò tranquillamente. Grazie e in bocca al lupo. A te Ale!